A disposizione avete il fantastico e completo indice alfabetico attraverso il sito tinelli.eu. Sempre a disposizione, in bianco e nero, il libro Il Risveglio, a colori solo nella versione e-book. Attraverso le migliaia di voci che trovate sul prezioso indice alfabetico, ricordo che potete verificare molte prove sulla mancanza di curvatura analizzando ad esempio le voci Wireless Point-to-Point Record Distanza Italiana o microonde 235 km in linea retta solo su una terra piana. Andiamo a vedere questo articolo postato il 7 settembre 2023 con l'uso del traduttore automatico perché è molto avvincente. In parole povere è l'ennesima dimostrazione che questo record mondiale dimostra che la terra è piana e mette fine alla fantasticheria del globo. Nuovo record mondiale, l'ora, 1336 km. Trovate sempre i link nella descrizione. Dopo tre anni il nuovo record mondiale è stato stabilito installando tracker Lora One su un peschereccio estreia di Sesimbra e sulle sue boe sulla costa di Sesimbra in Portogallo. Il localizzatore è riuscito ad entrare in contatto con un gateway nelle isole canarie. Per chi non sa di cosa si tratta, l'ora è un importante metodo di comunicazione e, considerato come funziona, è un enorme potenziale per testare la terra piana grazie ai test di lunga distanza. A tal proposito, invito ad analizzare, sempre attraverso l'indice alfabetico, la voce radar delle imbarcazioni dimostra che la terra, in questo caso l'acqua, è piana. Questo che vedete è il video dove spiegano che il funzionamento richiede una bassa potenza, lunga distanza e bassa velocità di bit, pertanto un basso spettro di larghezza d'onda. Sulla pagina Wikipedia si legge l'ora utilizza bande di radiofrequenza sub-Gigahertz libere come 433 MHz e 868 MHz Europa e 915 MHz Nord America. Come potete vedere su questa pagina, si tratta di frequenze UHF e c'è il divieto di allacciamento ad antenne esterne. Ovviamente le onde radio UHF non seguono la presunta curvatura della Terra. Infatti, seguendo questa pagina, traduzione automatica, si legge la portata l'ora dipende dalla linea di vista radio. Le onde radio nella gamma da 400 a 900 MHz possono passare attraverso alcuni ostacoli, a seconda della loro composizione, ma verranno assorbite o riflesse in altri casi. Ciò significa che il segnale può potenzialmente arrivare fino all'orizzonte. Ve lo rileggo. Ciò significa che il segnale può potenzialmente arrivare fino all'orizzonte, purché non ci siano barriere fisiche a bloccarlo. In breve, le comunicazioni l'ora smantellano la presunta geometria del globo. Infatti, questa comunicazione l'ora è avvenuta a 1336 km di distanza e il segnale radio è stato trasmesso fra una nave da pesca ed una boa. Il record mondiale di comunicazione è avvenuto quasi a livello del mare. Presumendo un'altezza di circa 6 metri ed una distanza di 1336 km, il bersaglio nascosto dietro alla curvatura, in questo caso la boa, dovrebbe essere di ben 136 km. 136 km a distanza dell'orizzonte dovrebbe essere di soli 8,74 km. C'è solo una conclusione. La Terra non ha alcuna curvatura. La Terra è piana. Grazie per aver guardato e state lontani dai social. Tutti, come vi suggerivo già il 4 gennaio 2019, con il video comico Che cosa c'è? C'è che mi son dissociato da te. Ah, ho capito signordino. Ma mi dica signordino, perché devo seguire il canovaccio per l'intervista e non andiamo a ruota libera. C'è già tutto scritto qui? Che domanda, perché così evitiamo di tagliare e poi pubblicare quello che non interessa, come fanno sui video di regime. Così evitiamo tempo, risorse e inutili lungaggini. Grazie.